Cambio di rotta per l'Unione Petrolifera che ha deciso di cancellare nel suo nome il riferimento al mondo del greggio e puntare sulla transizione energetica, una scelta determinata anche dalla ridotta domanda di gasolio, benzina e carboturbo e che farà chiudere l'anno in corso con un meno 15% dei consumi di prodotti derivati dal greggio rispetto al 2019. Oggi passiamo dalla Unione Petrolifera a Unione Energie per la Mobilità in completa sintonia con la trasformazione che subirà il nostro settore, le nostre raffinerie che nei prossimi decenni lavoreranno sempre meno petrolio e più materie prime alternative per una produzione decarbonizzata. Stiamo avviando insieme a tutte le altre associazioni europee di categoria una trasformazione che porterà alla completa decarbonizzazione del 2050 e quindi noi ampliamo il nostro perimetro associativo anche ai produttori e a chi fa ricerca sui carburanti sintetici.